Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source edizione e riassunto della settimana. Cominciamo con il primo post realizzato da Stefano su Raspberry Pi che ha inaugurato così una nuova pubblica dedicata a questo mini PC delle meraviglie che tutti quanti voi nerd in ascolto di sicuro conoscete. Mini PC delle meraviglie perché lo potete utilizzare come media server, come web server, lo potete utilizzare come mini PC per la navigazione e quant'altro, lo potete utilizzare per realizzare sistemi di irrigazione, giardinaggio e quant'altro e gli utilizzi del Raspberry Pi sono limitati soltanto dalla fantasia di chi utilizza questo mini PC. Queste settimane sono stati realizzati due post sul Raspberry Pi, il primo che è praticamente una introduzione al Raspberry Pi con le procedure iniziali per poterlo mettere in funzione, Il secondo invece è dedicato a come trasformare il Raspberry Pi in un mini media center, un web server, viene spiegato appunto come utilizzarlo per poter scaricare Fitorrent, per poterlo utilizzare come media center e quant'altro. Andate a leggervi questi post, nelle settimane prossime arriveranno altri post al riguardo, andatevi a leggere perché sono molto interessanti sia se volete acquistare un Raspberry Pi e quindi volete farvi un'idea delle funzionalità e delle potenzialità, sia se invece siete semplici appassionati di tecnologie e volete qualche informazione in più riguardo a questo mini PC. Passiamo adesso al rilascio della settimana. E' stata rilasciata la preview di Manjaro 0.8.10 versione XFSL, novità principale di questa nuova versione che è appunto è stata rilasciata in versione preview pubblica, e un nuovo artwork chiamato MEDA che è stato introdotto per meglio rendere compatibili le GTK 3.12 all'interno di Manjaro perché le GTK 3.12 hanno alcuni problemi per quanto riguarda i tasti chiusura e quant'altro perché adesso sono stati integrati in maniera diversa e quant'altro. E' stato poi corretto un grave bug all'interno del reinstaller TUS che causava l'impossibilità di crittografare l'intero disco se veniva utilizzata una lingua, un layout della tastiera differente da quello inglese. E' stata ridisegnata la welcome screen che è adesso più chiara e più pulita ed è stato fatto un nuovo tema di playmout. Questa nuova, questa preview pubblica di Manjaro 0.8.10 XFSL si basa sul ramo testing, quindi se volete provarla sappiate che appunto è basata sul ramo testing, quindi qualche piccolo bug potrebbe esserci, anche se di solito non ci sono tanti bug in Manjaro, almeno dalla mia esperienza personale. L'altro rilascio della settimana è Lubit 3. Lubit è una distribuzione tutta quanta italiana realizzata da un mio amico che si basa su Ubuntu. Questa nuova versione si basa su Ubuntu 4G.04 LTS, kernel 3.13 ed ha la particolarità di avere open box come ambiente desktop. Questa distribuzione è pensata specificatamente per quell'hardware obsoleto. Perché? Perché praticamente Lubit, grazie a tutte quante le ottimizzazioni che sono state fatte sia a livello di sistema che quant'altro, riesce ad impiegare solamente 100 MB di ramo, un consumo di risorse davvero basso. Il look della distro è personalizzato, abbiamo un tema sul bug, è molto carino, molto bello da vedersi. Le prestazioni sono ottime, sia sul hardware dotato che, a maggior ragione, sul hardware più prestante. Sono state fatte alcune modifiche in questa nuova versione di Lubit. TUNAR viene utilizzato come gestore file. L'AFPAD è stato utilizzato come editor di test, così per editare dei test-alvo e quant'altro. Come suite da ufficio, diciamo così, abbiamo ABWORD e GNUMERIC, così come accade per Xubuntu e altre distribuzioni leggere. Firefox 29 e il browser di default. E poi sono state aggiunte una serie di programmi e script vari per personalizzare la distro, per renderla più completa, diciamo così. Se state cercando una distribuzione leggera, fateci un pensierino, perché è leggera e facile da utilizzare perché è basata su Ubuntu, quindi non avrete problemi. L'altro rilascio della settimana non è di una distribuzione, ma è di un desktop environment. è stata rilasciata la prima release pubblica di LXQT. LXQT che cos'è? È praticamente il nuovo desktop environment realizzato dalla collaborazione tra i team di LXDE, i team di Razor QT e il MAUI Team, che mira a realizzare un ambiente desktop leggero, un'alternativa desktop leggero, appunto a XFCE, che ha però come particolarità quella di utilizzare le QT. Questa prima beta pubblica è da considerarsi, diciamo così, una continuazione del ramo stabile di Razor QT, in quanto praticamente il codice QE, l'aspetto della distro QE, il sistema con i pannelli e quant'altro. Quindi non cambia molto rispetto al Razor QT. Però, una cosa da apprezzare di questo nuovo desktop environment qual è? è che per la prima volta si è avuta una unione di sforzi tra diversi team di diversi desktop environment per realizzarne uno, uno buono, uno vivo, che può continuare ad avere supporto, perché appunto fondendo i vari team, le idee e quant'altro si riesce a creare qualcosa, una base più ampia, più sviluppatori, non si disperdono le forze così come accade in altri progetti. Quindi è davvero interessante. Se volete installarlo, trovate all'interno del post come installarlo su Archlinux, su Ubuntu, 14.04, io l'ho installato su Ubuntu, SidAction e OpenSource, poi, vabbè, se volete potete compilarvelo e installarlo su altre distribuzioni. Non appena saranno pronti i repo per Fedora, vi aggiungerò il post. Passiamo adesso al mondo dei videogiochi, due notizie questa settimana. La prima riguarda la notizia dell'imminente arrivo di un nuovo motore grafico per SuperTux Kart, il famoso clone open source di Super Mario Kart. Praticamente il gioco, questo nuovo motore permetterà di avere un gioco graficamente più accattivante, poi nel post potete vedere alcuni screenshot e un video. L'altra grande notizia del mondo del gaming della settimana è l'imminente, che arrivo anche in questo caso, del nuovo Unreal Tournament. Epic Games ha annunciato che la prossima versione di Unreal Tournament, che è già in sviluppo, sarà gratuita, non free-to-play come per esempio altri giochi come Dota e compagnia bella, e sarà disponibile per Linux, Windows e Mac OS X. Questo nuovo gioco sarà basato sul Unreal Engine 4 e avrà un nuovo modello di sviluppo aperto. Tutti quanti i codici, tutti quanti i contenuti verranno resi pubblici su Github. Come procederà lo sviluppo? È stato creato un team di sviluppatori veterani che stanno già iniziando a mettere mani al gioco, perché deve essere scritto praticamente da zero e quindi c'è bisogno di una base di sviluppatori che sanno quello che fanno. Tutti i codici, appunto, tutto l'artwork, tutte le decisioni sul design del gioco verranno sviluppate in modo aperto e collaborativo tra Epic Games, tra i fan di Unreal Tournament che potranno dire da loro grazie ai forum che saranno messi a disposizione quant'altro e grazie anche alla collaborazione del Dallurian Engine Team che si occupa appunto dello sviluppo Dallurian Engine 4 che potrà avere voce in capito anche in questo caso per quanto riguarda lo sviluppo del gioco. Tutti quanti i fan che vogliono potranno collaborare creando un account gratuito e partecipare ai forum di discussione. Il lavoro richiederà mesi perché si sta partendo da zero, però non appena verrà resa disponibile una versione giocabile, si parla della fine dell'anno, verrà rilasciata gratuitamente. Come intenzione Epic Games di monetizzare tutto? semplice. Verrà creato un market tramite il quale sviluppatori, modder, artisti e quant'altro potranno proporre dei contenuti che potranno regalare, potranno anche vendere. il ricavato delle vendite di tutte queste cosine verranno derivate dal market verranno divisi tra l'autore che ha realizzato il contenuto e Epic Games. Quindi è un sistema interessante anche da questo punto di vista per monetizzare il tutto. Altra notizia della settimana. Ah, ecco, un'interessante notizia della settimana. Ho postato un video, l'open source spiegato con il Ego. È un video divertentissimo, grazie al quale potrete introdurre il concetto di open source anche alle persone che non sono tanto pratiche della tecnologia. Grazie a questo video tutto è più bello con il Ego. Appunto, avete la possibilità di spiegare in termini facili e semplici l'open source. Il video inizialmente era disponibile soltanto con i sottotitoli in inglese, francese, danese e portoghese. Poi, grazie a Stefano e al suo lavoro, sono stati introdotti anche i sottotitoli in italiano. Stefano ha prontamente tradotto in italiano e ha fornito la traduzione all'autore del video che ha prontamente appunto aggiunto i sottotitoli in italiano a questo video. Quindi, se potete vedere i sottotitoli italiani, ringraziate anche Stefano. Anzi, ringraziate Stefano. Notizia della settimana particolare Una notizia della settimana che ho postato e riguarda un impiego particolare di Linux. Come ben sapete, Linux viene utilizzato praticamente in qualunque ambito. Adesso manca poco che lo mettono anche nella macchinetta del caffè. Accade adesso che Raytheon Company, che è un'importante azienda statunitense che opera nel settore della difesa, ha stipulato un contratto da 15,8 milioni di dollari con la marina militare degli Stati Uniti per aggiornare i sistemi di controllo dei droni in possesso alla marina con Linux. Attualmente viene utilizzato Solaris, però Solaris è alla fine del ciclo di sviluppo, quindi si sta pensando all'alternativa. Raytheon Company ha pensato di proporre Linux. Il primo veicolo che avrà l'aggiornamento software Linux sarà l'elicottero senza pilota come si chiama Nord Groupman MQ8C FireScout, un nome lunghissimo, un mezzo militare che viene utilizzato come ricognitore ma anche come supporto per il puntamento di precisione. Quindi, appunto, è un UAB, quindi un veicolo completamente automatizzato. Questo passaggio a Linux consentirà di avere un sistema di controllo più intuitivo, sempre a detta di Raytheon Company, e dovrebbe rendere anche più facili futuri aggiornamenti software, garantendo un risparmio nel lungo periodo. Quindi, capite bene che se anche l'esercito inizia a pensare Linux come soluzione più affidabile e con un miglior rapporto per quanto riguarda i costi che risparmio nel lungo periodo, beh, c'è da pensare. C'è da pensare anche al fatto che Linux viene utilizzato anche, purtroppo, per questi tipi di veicoli militari, che non piacerà di sicuro a molti di voi in ascolto. Altra notizia riguarda il mondo Android. Meizu, che molti di voi conosceranno, che è praticamente un produttore cinese di smartphone, smartphone che sono anche molto carini, Meizu è anche la società che ha stipulato un accordo con Canonica per la realizzazione del puntofone. Meizu ha aperto il suo negozio ufficiale online tramite il quale sarà possibile acquistare i propri smartphone di Meizu pagandoli con carta di credito e pagamenti di questo tipo, insomma. I prezzi, comunque, saranno competitivi, sarà con la spedizione in tutto il mondo, sarà, utilizzerà tempi dai 7 ai 15 giorni, quindi comunque anche tempi brevi. il pagamento si potrà utilizzare a PayPal. L'unico problema è che il costo dei dispositivi messi in commercio tramite lo store non comprende le tasse doganabili, quindi la dogana è sempre un problema per quanto riguarda le importazioni di terminali da parte della Cina. I prezzi, comunque, sono carini, perché praticamente per la versione da 16 GB del top di gamma si parla di 460... no, 469 per la versione da 64 GB, poi 469 dollari. Spedizione che è di 10 dollari. Fate poi il rapporto in nero e vedete che è comunque vantaggioso il prezzo. anche se, appunto, c'è da considerare il fatto delle spese della dogana. Ultima notizia della settimana riguarda la nuova puntata del Marcosbox.io La rubrica di Stefano contenente tutti quei post che non possono essere inseriti su Marcosbox perché non riguardano estremamente il mondo Linux, ma che sono comunque post interessanti da leggere per tutti voi nerd in ascolto. Tante le notizie postate da questa settimana da Stefano. La prima, interessante, a me ha colpito molto, è un esperimento della NASA che ha realizzato, praticamente, una diretta streaming di alcune telecamere che sono poste sulla Stazione Spaziale Internazionale. Praticamente collegandovi a questa pagina su Ustream potete vedere, appunto, la diretta del globo in diverse angolazioni che, per chi è appassionato di spazio e quant'altro, ma anche per chi non è appassionato di spazio perché sono comunque delle immagini mozzafiato bellissime da vedere. Altra notizia, una notizia interessante è che praticamente Sony ha rispolverato le cassette, ha realizzato un sistema di storage sul nastro. Questo metodo di archiviazione è molto particolare perché offre maggiore densità di dati per costo e consente di farci stare fino a 148 GB di dati per pollice quadrato. Naturalmente questi sistemi non saranno di sicuro impiegati per noi comuni mortali, anche perché saranno scomodi da utilizzare, ma saranno utilizzati per l'archiviazione di server e quant'altro. Ammesso che questa tecnologia verrà ulteriormente sviluppata e supportata. Notizia interessante anche che si è scoperto che i link condivisi di Dropbox e Box.net permettevano ad AdWords di accedere ad altri file riservati. Quindi occhio alla privacy, occhio a quello che caricate sui servizi di cloud storage. Se avete dati sensibili che non volete fare e privati, che non volete spiattegare in giro, o che volete tenere segreti soltanto per voi, non utilizzate i sistemi di cloud storage, ma utilizzate il classico backup fisico che tenete a casina vostra senza condividere con questi sistemi appunto. L'altra notizia... Vabbè qual è? Ah! Questa è una dichiarazione interessante. Che è successo? Che Simatec ha ammesso che gli antivirus non servono praticamente a niente ultimamente, che faranno una brutta fine. Quindi gli antivirus è stato soppassato. Andatevi poi a leggere l'approfondimento di Ars Tecnica a riguardo su questo argomento. Altra notizia che poi riguarda il mondo Android che... Lascio un po' perplessi. Google ha rilasciato due nuove applicazioni. Avete visto in settimana. Avete detto sui siti che si occupano del mondo Android. Io non ho riportato la notizia perché... Non so ancora se riportare notizie... Tante notizie su Android, su Google. Non so se vi può dare fastidio e quant'altro. La notizia è che Google ha realizzato due nuove applicazioni che servono per i fogli di calco e i documenti. Praticamente l'editor di Word e di Excel scaricabili su Android. Che è praticamente un doppione alla fine di Drive. O meglio di Quick Office e compagnia bella. O meglio, forse non è proprio un doppione perché alla fine... Questi due nuori programmini consentono l'editazione dei file offline. Il salvataggio dei file offline. Però è un po' stupido questa cosa. Integra queste funzionalità all'interno del programma principale. Senza che realizzi questi due... O meglio, vuoi rilasciare questi due programmi però integrali anche all'interno del programma principale. Perché è più sensata come cosa, vabbè. Beh, con questo ho concluso. Mi sono diconuncato già troppo. Sono 19 minuti. Gunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci vediamo la prossima settimana. Salvo qualche video infrasettimanale. Come è successo questa settimana che ho realizzato un video su... Con le mie considerazioni su Ubuntu 14.04 e le sue derivate. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao!